Ciao ragazzi qui è Born2Collect42 che vi farà assistere al nostro primo finto unboxing per quanto riguarda un pacchetto di diamante perla fronte di tempesta Ok finto, perchè finto? perchè io questo pacchetto l'ho già aperto e l'ho trovato insieme a questo magnifico e meraviglioso tin di Feraligator E niente volevo provare le mie qualità di youtuber per quanto riguarda le carte e quindi vi farò solo vedere quello che ho trovato Bene cominciamo, eccolo qui Quindi come potete capire il trick è stato fatto già e quindi vi faccio vedere direttamente le carte Ok, qui abbiamo un Beatof, un Ponita, un Begon, un Cerubi, una pozione magica che stava per andarsene via Legamma energetico, mi piace il Mime Junior che c'è nello background Un Electrode, uno Scarmory, river solo uno Steelix, veramente molto carino Guardate com'è lucente l'acciaio della carta, acciaio per modo di dire E un Infermate Pollografico, molto carino Begli anche gli attacchi, se volete sono questi per leggerli Ecco un altro grandioso Poké Power, Brucia Danza Che solo oggi ho constatato e ho imparato grazie al nostro caro sito inglese Pokemon.com Che è un Poké Power si può usare una volta al turno prima dell'attacco E questa cosa non la sapevo Bene, finisce qui il nostro primo finto unboxing di Pokemon Diamante e Perla E ci vediamo alla prossima